Susanna, tu hai 16 anni e sei una delle ragazze WIT qui della scuola di Palermo, il Finocchiaro. Allora, ieri tra l'altro nella competizione con i Marshmallow il tuo team è andato molto bene. Com'è fare questo corso e soprattutto questo percorso di imprenditoria femminile? Che senso c'ha a questa età? Al mio parere è molto istruttivo perché ti dà le basi per arrivare in un punto, in un certo punto che tu credi di non arrivare. Anche se io faccio il senso umano, mi dà anche un'altra competenza che posso usufruire nel futuro. Nel senso io lo trovo una cosa stupenda, da ieri che ho iniziato a fare l'attore di Marshmallow l'ho trovata una cosa stupenda perché proprio ti dà le basi come, nel senso, a me piace questo corso. Senti, puntare sulle donne finalmente direi è importante secondo te? Sì, molto, perché è da anni che non si conta sulle donne e io lo trovo una cosa stupenda perché io vedo solo, vedo quelli che creano l'app, Facebook, questi Twitter, sono tutti maschi, non c'è nessuna donna che fa queste cose. Io mi dico, anche io vorrei creare qualcosa, vorrei anche io essere capace, una donna, tutti possono essere capaci di fare qualcosa, non solo maschi. Bene, e voi ci riuscirete perché siete molto determinate. Sì. Grazie. Prego.